Anticardenga è una piccolissima azienda nel cuore della bassa parmese, fatta per passione, portata avanti con passione, tanti ragazzi giovani che ci credono tantissimo e la produzione di tre presidi slow food e tutto quello che si fa a Parma con il maiale meno il prosciutto. Abbiamo accettato con piacere la sfida di Fico, l'abbiamo accettata perché sarà per noi il modo di dire al mondo chi siamo, faremo produzione ma però faremo produzione di salumi in un luogo vero, quindi sarà un piacere oltre che un dovere nella comunicazione di quello che è un ambiente originale, un ambiente dove si annusa il profumo di vero, far assaggiare delle salissicce straordinarie, delle bracciole come difficilmente si mangiano e riuscire a far conoscere a tutti che esiste anche un'altra faccia, un altro modo di mangiare, di conoscere, di assaggiare dei prodotti che si stanno perdendo e che non esistono più. Quindi cosa posso dire? Vi posso dire che vi aspettiamo a Fico, vi aspettiamo con molto entusiasmo così come aspettiamo tutti voi anche nell'azienda da noi per poter vedere effettivamente le nostre cantine, il nostro modo di lavorare, i nostri salumi senza nessun conservante e il piacere di farvi annusare il profumo delle nostre cantine.